Ho fatto il mio primo pollo alla basca a quattro anni, il primo soufflé a cinque. Mi chiamano il Mozart del piano, di cucina ovviamente. Chi è questo finocchio? Buongiorno Chef. Buongiorno. Non provo alcuna emozione, sono bloccato. È il quarto ristorante in un mese che ti licenzia. Farò in modo di trovare un lavoro. Se perdi una stella, il tuo contratto è risolto. Incredibile, chi l'ha fatta? Lo vedi, quelli in bianchino? È davvero lei che oggi ha rifatto la mia ricetta della triglia alla zucca? Per me è l'equivalente del Davide di Michelangelo. Michelangelo, eh? Adesso lo assaggia e mi dice che c'è dentro. Lo faccio bendato? Non siamo mica al circo. Dove andiamo adesso? Su un set di ripresa per la mia trasmissione. Molto meglio senza il ma cipollino, ottimo. Stai zitto. Ho accostato un piatto dell'Alexandre di oggi a una salsa dell'Alexandre di ieri. Sì, bene. Alexandre le dice di non fare più accostamenti tra Alexandre e Alexandre. C'è uno calcio per assaggiare le nostre prove. Avete l'assicurazione sulla vita? Sì, assaggi. Smettiamo di masticare? Continui, continui a mangiare. Abbiamo due giorni per inventare una cucina che né lei né io conosciamo. E Siri il boss, perché non andiamo a mangiare al suo ristorante? Ma mi conoscono tutti. Konichiwa. Konichiwa. Spaghetti di animelle. Calamaro virtuale. Cioè, mangi ma non mangio. Non prendete la provetta di eclair alle fragole? Sai dove te le faccio mettere? Le tue promette? No. Meglio perché fanno tanto male.